Siracusa, criminalità, summit in prefettura con il Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza. Si è tenuta in prefettura nella mattinata odierna una riunione del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica preseduta dal Prefetto Giusti Scaduto con la partecipazione oltre che del Sindaco di Siracusa dei vertici provinciali delle forze di polizia, anche da remoto dei rappresentanti di Confcommercio, Confesercenti, Confartigianato, CNA e Casa Artigiane. L'incontro è stato convocato anche per aderire alle richieste pervenute da taluna associazione di categoria a seguito dei recenti danneggiamenti, furti e rapine subiti da esercizi commerciali di Siracusa che hanno influito sulla percezione della sicurezza da parte dell'intera collettività. Dopo aver preso atto che le indagini immediatamente avviate da polizia di Stato e Arma dei Carabinieri sui singoli episodi non escludono al momento nessun possibile movente, è tuttavia emerso che gli stessi non sarebbero collegati. Tutti i presenti hanno espresso l'auspicio di una rapida individuazione dei responsabili e hanno condiviso la necessità di porre in essere azioni comuni volte a innalzare la rete di protezione istituzionale e sociale delle attività economiche. In particolare si è concordato di promuovere presso la questura di Siracusa incontri tecnici con le associazioni di categoria per una maggiore diffusione di progetti di videosorveglianza ritenuti un valido strumento di supporto alle attività di prevenzione e controllo del territorio. Nel corso della riunione infine si è preso inoltre atto che all'accertato per l'attività di sodalizze mafiosi nella provincia di Siracusa non corrisponde tuttavia a un correlato numero di denunce per richieste estorsive o usurarie da parte degli operatori economici. Saranno in proposito attuate iniziative congiunte tra Prefettura di Siracusa, Forze di Polizia, Amministrazione Comunale, Mondo della Scuola e le categorie interessate e finalizzate per rendere sempre più tangibile la ferma condanna e convinta reazione all'illegalità da parte non solo delle istituzioni e degli operatori economici ma anche della comunità. In conclusione il sindaco di Siracusa Francesco Italia e i presidenti dell'associazione di categoria hanno ribadito la piena fiducia nelle Forze di Polizia e nella Magistratura. Il prefetto, specie nell'attuale fase di definizione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, ha sottolineato l'importanza dell'approccio collaborativo per il contrasto ai fenomeni criminali che costituiscono un freno al sano sviluppo economico, generatore di pari opportunità e alla valorizzazione dei talenti.